Musica Eeeh Paratetri ragazzi e benvenuti qui sono i suoi da oggi Sono insieme qui su Fortnite in duo con Alessandro ragazzi Aoro massiccio raga Dobbiamo vincere assolutamente perché raga Siamo carichissimi e lo facciamo anche con il completamento Perché così raga stiamo con qualcun altro Magari incontramo uno forte vabbè ci vediamo In partita proprio adesso Ok raga Oh pistoletta Scaracca Oh bottiglione quello là Slurpone Attenzione se tronce Che ne abbiamo vinto Ecco la cassa Eeeh Checchino 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 abbiamo vinto Checchino Si Oh bobo Però purtroppo è quello da Rocco Però è quello forte Checchino C'è quello la tanti volte No abbiamo vinto abbiamo vinto La stanza è un po' carichissima Mi sei vinto come una botte piena da esplode Ma oggi Abbiamo vinto un giro con il numero 4 No 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 c'è ragazzo là Anche Matteo Si è stato in pari a te Hai visto Parla molto con le grandi Parlavo Eeeh Vabbè Ognuno parla E' vero Puri a certe volte parlo ma quando me ne sa Se le lascio a barabaco la tonda Ma mi dici come fai il pigliese E come va Certo Come va Cosa Eh Mi vanno Ti parlo io Che ti hai detto tu E' isso Che si è fatto Che cazzo le vuoi Non ti ho capito Aspetta Sentimi che Che a me si vicino Se no Ingeghella Non si può E' un po' uguale Però non tanto Sorda Vabbè Quelli piccoli Sorda Oh Ah la lega qua c'ha un grande Oh Ho dieci mini scudini E qua c'è uno scudo grande E' un po' uguale E' un po' uguale Eh niente C'è la mini cal Hai sentito tipo una scoreggia cosa che manca guarda ma c'è solo un auricolare così non sento bene adesso sì che sento mi senti col piccoli colpi colpi medi io ce n'ho 200 c'è un megaslurpone vedono tu e vederà in giudano un altro io non c'ho spazio ho capito ma è utile da minigam no è buona che stacca i muri vabbè si quella là si tanto tanto per un po' le sani che stanno quello che devo fa ecco non può non tanto solo l'anore no 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 voglio io i dati da speriamo che il cecchino niente i cerchini qua non si trovano raramente ma c'era 24 tu oggi ci sei andato a scuola e allora c'è credo che non puoi andare domani a scuola io ci voglio stare almeno mi sono abituato io sto a casa dal mercoledì di prima vabbè ora però è finito oh unico sono andati all'anno hai visto lo sapevo io ecco come finia la partita che devi fa mi devo mettere il pigiama sta a 2 pillo sto cidrullo no non è bravo ma siamo e l'altro salvaguardi ci siamo ci siamo agli di un lavoro si prese su unico sto sta da solo sto poi a noi ma fuori di fuori anche non abbandonato vista messa bene a me c'è un occhio che mi guarda come la mamma mi chiede io l'ho che non guardo sai di ammesto dei perché sai che mai il mondo e poi guarda stanno insieme a me è anche un giocatore è come come che su un uomo perché perché la caccia la vostra storico pioni pure No, è stato già preso Non è stato già preso No, è stato bolludo No, è stato bolludo Da che chi luca? Oh no, ce l'avo più piccoli Ci vuoi ci vuoi ci vuoi ci vuoi ci vuoi Oggi il labbo Gli devi far vedere i colpi piccoli Gli devi far vedere E fai così Si 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 gira Si dacceli E cosa ti balli? No bo Ma tu ma tu c'è C'è il cerchio fino al colpo Si Please Please Colpi piccoli Piccoli colpi Piccoli shot No 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 Small shot Oh che cazzo è il spy No Please Ce l'hai un po' dei materiali? Il mio è il livello Trenta Livello trenta il mio Guarda Guarda Non me lo prenderai No è venti No guarda a sinistra E' venti Ah si scusa Eeeh Non so sbagliato E' venti Ah si però quando lo troviamo Il livello trenta No sempre il livello trenta Oggi l'ho trovato Era fortissimo Ho trovato quello di livello quattro No è 40 Vabbè Oh sto fai davvero Oh a un costo Però Non mi guarda Non mi guarda No assicurati Magari muori Andava poi se mi ruba la kill Mi ha levato un botto Mi ha levato Lascia la scienza Lascia sta Lascia sta Guarda se unico a sto ruba la kill Stava già rubata Eccola E' vaffanculo Però Mancuna kill io Minchia Però lasciatemi qualcuno Tu stai già 2 kill Unicast Coronare Che tacci su Magari muori di cancro Magari muori di cancro Non so Io sto sparai Io che gli spari tu Nabbo Io No Unicast Sto maledetto No mi da fastidio Sto stronzo Tanto avessi un po' lo sa che devo fare O cosa stanno fai da Sto s 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 Eccomi eccomi Mi chiamato da dietro Io posso andare da dietro Guarda la Ammazzonati E da che parli sa Non lo sa Non lo sa Non lo sa Non lo sa va Non lo sa va Perché no Fai finta di niente Ma vorrello Da posso farlo Sì dai curano che te dovrebbero Sì dai curano Si Che te dovذه Com'è Come vorrei Gio è lì Com'è un crozio Gio è Bologno Gio è Gio è Gio è Dell'arsi Bologna Gio è Cazzo De B​ Di un po' c'è poi il calcolo che è quello che stava a sparare non ci sono messa guardate che è la mia volevo il merito si bene quando si sparano fermano fermano lasciamela a me c'è pochissima vita ok dove sta uccisi guarda che quello la mi cade cura sto stronzo mi dai il medikit oh ma perché non mi fa curare scusale guardate se te lo rubi bestemmi eh sì sì c'è una mini mini shield buono buono minchia quello là non moriva l'ho massacrato buono dai sì sì quanti ne vuoi due ok minchia l'ho massacrato minchia l'ho massacrato mi dai mi dai a te che sanno qualcosa eh ho il livello 7 sta pistolina a me servono i coltivi per lo scar a me a me a me vengono di sola che gli spari eh sì ma che stai spari che ci ammazzano ti sparo io dico io te lo dico io quando vai ora 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 tra quale ci sei utile a certe cose a me andammo da dietro vai continua a sforzare a me è la mia 色atura di sola se continui è massacrato ah nonostano no o può c non lo so lo sai ma mai che c'è che erano valori facoli di prima che tu la man la man la mano tutte spiega la mano la mano tu dici che era quello questa volta fermo 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 lo ha massacrato uccisi ma qualcuno ha sparato ma che la ragazza vengono 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 da un tempo non riusciti riusciti aspetta me aspetta me come come quattro eccomi ale eccomi no ale scusami ale ale mi perdoni dai dai solo montagna ma non so sono solo quelli sei sicuro ma no ma ci massacrano ale ci massacrano quelli non so sono quelli sono tutti temi da due andiamo a me quelli mi hanno ammazzato tanto vale bravo buono contro un team e una persona sola dai 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 che faccio mi cura piano piano oppure uso il mega slurpone ok sei sicuro che è solo quello un team da tre due team si no penso che so due team un team io voglio una persona sola yes dai 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 sei forti vuole pure che proprio eh lo so che mi vuoi lasciare è scendito perché vedi che c'è difficoltà grande a me c'è pure lo slurp è un momento è un momento se magari mi dà pure uno slurp questo coi dalla ok sì 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 eccolo eccolo bevo veloce 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 bravo vai qui zio ci iniziamo a crearci un bel fortinozzo alla all'arcioni un fortino all'arcioni che vinciamo sempre all'arcioni dai vieni zio dai da che cazzo stai a fa ah lui va in solo sono ancora vivo eh guarda quelli stronzi eh a me quelli quelli ma l'ha ammazzato che sta va bene va bene va bene questo è il posto e quando ha l'ultima oggi vieni vieni tanto morite fuori vieni fuori vieni fuori vieni fuori vieni vieni dai vieni dai vieni dai vieni vieni dai vieni tanto è morto questo è il posto andando oggi da un link per favore il rio del rio sottotitucco un piccolo bambino per la parte del tempo un'ultima vero un'ordata c'è l'altra per una massa sala io vengo io vengo io vengo io vengo posso posso agra ho visto ho visto vai 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 dai ragazzi l'ho ucciso l'ho ucciso 1 dove sta? starà là dentro la grotta continuiamo campanella dalla partita di acqua attento attenti assi ma se non esce qua dietro guarda di dove ando la sulla dove avrei ammazzato gli altri oh eccolo tanto è fottuto lui sta fuori dentro ma chi? quello dai massacralo zii vanno accoraggi siiii ma sono troppo forti sto unicost mi sta simpatico grande grande si 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 vai 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 bravo 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 bella bella partita bella partita bellissima amiamo tutte e due unicost bello cavombare oh 100 big bucks si 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 acquista un livello posso acquistare un livello vai acquistiamo ok abbiamo sbloccato un po' sbattaglia a livello unicorno lucente mazza andiamolo a mettere raga perché è carino vabbè ragazzi siamo fortissimi insieme e ci vediamo nel prossimo episodio di questo gioco e siete sempre perdenti ci vediamo nel prossimo episodio